buongiorno a tutti benvenuti a questo ennesimo appuntamento con la sica italia web academy molti di voi ci seguono ormai da dall'inizio di questa di questa avventura che con periodi come è iniziata già a fine gennaio diciamo con con i primi appuntamenti in formato web conference ma con sica italia è cominciata già ben da fine marzo se non ricordo male quindi l'ennesimo appuntamento che stiamo portando avanti peraltro michele stella che comincia a salutare a cui do il buongiorno non è la prima volta che abbiamo con noi come come relatore e tra l'altro vi anticipo che andremo ancora avanti quindi nei prossimi giorni vi arriverà il calendario dei nuovi appuntamenti da poter seguire lo dico perché michele i nostri professionisti che ci stanno ci stanno seguendo ormai si sono un pochino anche abituati a questo a questo appuntamento mattutino che alle volte è un doppio appuntamento settimanale come come nel caso di questa settimana tant'è che oggi mi devo scusare ho tardato due minuti nell'aprire la stanza perché stavo finendo di prendere un caffè ogni tanto ci vuole e qualcuno mi ha bacchettato dicendo pensavo che fosse stato rimandato e quindi mi scuso per aver aperto con due minuti di ritardo questa stanza virtuale detto questo allora prima di introdurvi all'argomento di oggi ricordo al solito come funziona un po la diretta che ci accompagnerà per un'ora e più da qua in avanti è una diretta che fondamentalmente ci dà l'opportunità di poter essere presenti con con questa formazione in qualsiasi angolo d'italia quindi immagino che ci siano persone che ci stanno seguendo un po da ovunque magari anche qualcuno anche dall'estero perché è già capitato che magari abbia trovato sui nostri canali queste interessanti opportunità formative arriva anche da da posti distanti forse il più distante che abbiamo avuto è stato dalla colombia settimana scorsa ma l'altra opportunità che ci dà questo strumento è quello di interagire in maniera concreta e quasi più forte rispetto a un'aula tradizionale fondamentalmente questo come si fa si fa con il pannellino di go to webinar software che stiamo utilizzando per per queste per tutte le dirette che che facciamo attraverso il campo chat domande lì potete scrivere tutte le vostre domande le vostre questioni qualcuno lo sta già utilizzando per darci il buongiorno sarà mio compito in qualità di moderatore raccogliere tutte queste queste domande e interrompere il nostro michele stella per dare appunto una risposta qualora non riuscissimo a dare risposta a tutti lo anticipo già ma avrò modo anche di ricordarvelo durante la diretta sic a italia vi darà risposta in maniera scritta nei prossimi giorni quindi come follow up di questa di questo webinar poi appunto manderà ad ognuno la risposta alle alle domande che sono state fatte ma ad ogni modo il grosso cercheremo di farlo in diretta veniamo all'argomento di oggi l'argomento di oggi per chi era presente già all'appuntamento di ieri va a completare un pochino un percorso dedicato all'impermeabilizzazione delle coperture piane ieri abbiamo affrontato il tema parlando di membrane fondamentalmente di teli di manti sintetici quindi avevamo presentato quella tecnologia per l'impermeabilizzazione presentando nei vantaggi oggi vediamo un'altra tipologia che è fatta con impermeabilizzanti liquidi quindi vedremo qualcuno ieri ci chiedeva di fare un confronto rispetto ad altre tecnologie avevo detto proprio aspettate domani perché domani vi presentiamo un'altra tecnologia di modo che possiate avere un quadro un pochino un po più completo ed effettivamente oggi speriamo di potervi darvi di potervi dare questa opportunità io ho concluso ho fatto la mia premessa che anche ci consente di poter accogliere anche chi magari appunto si è trattenuto come me qualche minuto in più a bere il caffè direi di lasciare come sempre la parola a michele stella da qua in avanti michele visto che poi mi piace interagire sempre chiamando tutti per nome come al solito una breve presentazione di chiesica italia specialmente per i nuovi che ci seguono e poi andiamo diretti sul tema di oggi prego michele esattamente buongiorno a tutti mi chiamo michele stella appunto faccio parte del servizio tecnico e seguo nello specifico i prodotti impermeabilizzanti liquidi due parole come giustamente ha detto marco su chi è sicca per chi non ha seguito l'incontro precedenti allora sicca è nata nel 1910 è nata proprio nel settore delle impermeabilizzazioni all'epoca c'era la necessità di impermeabilizzare il tunnel del gottardo l'inventore il fondatore di sicca caspar winkler inventò un prodotto che si chiamava sicca 1 per impermeabilizzare la volta della galleria si dimostrò efficace da lì nacque sicca in svizzera la casa madre zurigo e poi si è sviluppata si è sviluppata diciamo nell'arco degli anni qui vedete le tappe più significative del percorso negli anni 60 è stata creata una divisione lavori sono state poi negli ultimi decenni diverse acquisizioni fino ad arrivare all'ultima di index e parex sicca si è diffusa non solo a livello di prodotti a livello di fatturato ma anche territorialmente questo lo dico non tanto per fare pubblicità ma sapere che ad oggi sicca conta 25 mila dipendenti copre 100 paesi più di 100 paesi in tutto il mondo e con un fatturato di oltre 7 miliardi di euro vuol dire che quando voi utilizzate un prodotto sicca non è un prodotto locale sviluppato per il mercato italiano ma è un prodotto che domani mattina andate dal sud america al giappone paesi scandinavi al sud africa nei più sbagliati parti del mondo e ritrovate esattamente lo stesso prodotto quindi diciamo che dà la sicurezza di un prodotto testato e collaudato su scala globale sicca italia si è poi suddivisa in diversi target market settori di mercato che riguardano prima di tutto gli additivi per calcio e struzzo i sistemi impermeabilizzanti di contenimento idrico e tutto quello che è il mondo della sigillatura e l'incollaggio elastico ad esempio sigillatura di facciate continue piuttosto che i pannelli di incollaggio e pannelli su facciata tutto il mondo dei rivestimenti per pavimentazione resina e pavimentazioni stesse il settore refurbishment penso che abbiate seguito diversi corsi del mio collega moroni che riguardano tutto il mondo del refurbishment che è appunto il ripristino del calcestruzzo è stata recentemente introdotto un nuovo target market che è il building finishing quindi riguarda tutti i prodotti per le finiture interni e non poi sic a un importante target market completamente distinto dal mondo dell'edilizia che è il settore industry industria dove sic a offre nell'ambito ad esempio automotive, transportation non immaginate quanti metri di sigillante ci sono all'interno della produzione di un veicolo e infine il settore roofing che è quello che riguarda più di vicino l'argomento di oggi quindi parleremo abbiamo detto di ripristino di coperture esistenti in verità non solo esistenti ma si possono utilizzare anche per coperture nuove di nuova realizzazione con sistemi permeabilizzanti liquidi perché si è concentrata l'attenzione sulle coperture esistenti per un semplice motivo che SICA ha diversi diverse tecnologie ieri avete sentito parlare di manti sintetici abbiamo le membrane vituminose abbiamo impermeabilizzanti a spruzzo e liquidi gli impermeabilizzanti liquidi appunto sono quelli che meglio si prestano all'esecuzione di ripristini di coperture esistenti ripeto non che un manto sintetico non sia indicato però la foto la foto che vedete sopra fa capire chiaramente che un sistema impermeabilizzante liquido è più facilmente applicabile su geometrie complesse o in presenza di numerosi attraversamenti cosa che i manti sintetici o prefabbricati in genere sono più scomodi tra virgolette da utilizzare i campi di applicazione membrane liquide sono i più svariati si varia si va da impermeabilizzazioni di fondazioni impermeabilizzazioni ad elevata resistenza abrasione quindi addirittura anche cavabili impermeabilizzazioni di tunnel attraversamenti contenimento idrico serbatoi vasche fino ad arrivare le coperture che possono essere coperture trafficabili coperture a tetto verde piuttosto che coperture direttamente a vista diciamo che questi sono i campi di applicazione delle membrane liquide tra tutti questi i campi di applicazione su cui andremo a soffermarci soffermare la nostra attenzione saranno principalmente le coperture quindi tetti tetti piani tetti inclinati e i balconi ora due detto questo due parole su normative e linee guida di riferimento non voglio annoiarvi non è mia intenzione entrare troppo nel dettaglio però a mio avviso è fondamentale porre alcuni paletti per definire quali sono le regole del gioco mi piace dire così perché perché tante volte ci capita la classica domanda ma quanto dura ma è garantito allora tu a tutte queste domande che possono sotto certi aspetti essere molto pressanti per chi ottiene il committente è importante sapere che ci sono delle normative o linee guida quando parlo di normative intendo norme vere e proprie linee guida la differenza è che le linee guida non sono delle norme ma sono delle appunto delle delle linee guida definite da un organismo europeo dopo lo vediamo più nel dettaglio per quanto riguarda i balconi essenzialmente le normative di riferimento sono queste due si parla di 14 891 una normativa specifica per quanto riguarda impermeabilizzanti liquidi da utilizzare sotto piastrelle e poi non è prettamente riferita l'impermeabilizzazione dei balconi ma la n 1504 parte 2 che riguarda la protezione e riparazione di strutture in calcetruzzo può essere rilevante talvolta è presa come termine di riferimento per i prodotti utilizzati su balconi per quanto riguarda invece le coperture purtroppo non esiste una norma non abbiamo una n non abbiamo neanche una uni diciamo che le coperture non sono ancora oggetto di una normativa specifica ci stiamo lavorando siamo all'interno del gruppo uni per lo sviluppo di questa norma ma siamo ancora abbastanza indietro quindi beh allora in europa per fortuna quando non esiste una norma esiste un organismo che si chiama eota che rilascia delle linee guida guidelines guidelines in inglese vuol dire appunto linee guida questo organismo rilascia delle linee guida per ottenere le approvazioni tecniche europee soddisfacendo la linea guida si può ottenere la valutazione tecnica europea european technical assessment beh questo è un documento che diciamo è vero non è una norma ma attesta quello che sono i livelli prestazionali e le caratteristiche di un sistema per coperture ecco diciamo che questo è molto utile quando per come all'inizio per rispondere a quello che sono le domande ma un sistema dura che caratteristiche a ecco se parliamo di sistemi dotati di valutazione tecnica europea il documento rilasciato da questo organismo possiamo paragonare anche sistemi differenti capire le prestazioni di un sistema piuttosto che l'altro e anche soprattutto la sua durabilità perché uno dei punti fondamentali di questi documenti è avere un capitolo che riguarda proprio la durabilità entrambi che siano normative o linee guida possono portare alla marcatura cie del prodotto quindi il fatto che il prodotto sia marcato cie vuol dire che soddisfa o una normativa o una linea guida europea quindi scusa una precisazione michele ci chiedono se quindi non è normata l'impermeabilizzazione liquida vista dei balconi l'impermeabilizzazione a liquida vista no non è normata non è normata e ci tengo a dire può sembrare banale ma non è neanche soggetta a una durabilità garantibile nel senso che io faccio sempre un esempio forse un po banale ma dico come possiamo come posso io garantirti dopo quanto si usura o di vestimento soggetto ad usura appunto che appunto è un caso di un balconi l'impermeabilizzazione a vista su un balcone quando non so quanto lo vai a usurare tu quindi il rapporto vuole essere molto limpido e serio che cosa vuol dire quando si parla di coperture siamo sul tetto nessuno ci cammina regolarmente sul tetto i tetti sono considerati sempre ispezionabili quindi ci si cammina liberamente ma per scopi manutentivi se invece è libero accesso ovviamente non è una copertura non è un tetto le coperture soggette a libero accesso quindi direttamente pedonabili essendo soggette a questo fattore non quantificabile che appunto l'usura non possono essere soggette a una garanzia di durata a differenza di invece delle coperture non soggette a pedonamento libero che quelle invece sapendo perfettamente ed essendoci delle appunto come abbiamo visto le lingue delle linee guida che stimano i livelli di usura derivanti da agenti atmosferici e sole e raggiamento eccetera ci sono diversi parametri che permettono di stimare e dare un'idea un'indicazione della durabilità del sistema certo certo quindi credo che abbiamo fatto questa precisazione molto frequente che i clienti richiedono una durabilità o una una garanzia di durata la garanzia si può dare ed è l'obbligo di legge per i sistemi di coperture non trafficati direttamente a vista mentre invece su strutture direttamente pedonabili diventa impossibile certo certamente certamente prego come dicevo le linee guida eh tornando a eh questi documenti ETA quindi la valutazione tecnica europea rilasciato rilasciati dal organismo EOTA eh le linee guida specifiche che riguardano il settore di cui stiamo parlando sono proprio si chiamano ETA il numero è 005 parte 6 che riguarda proprio gli impermeabilizzanti liquid eh applied roofing waterproofing kit sono i sistemi di impermeabilizzazione per tetti applicati liquidi quindi è proprio una linea guida specifica e dedicata ai sistemi impermeabilizzanti per tetti sistemi liquidi impermeabilizzanti e come dicevo questa linea guida prevede diversi capitoli con eh vengono analizzati analizzate diverse caratteristiche ci sono indicati i metodi di prova eh è molto dettagliata uno dei capitoli solo a titolo così di esempio uno dei capitoli più interessanti proprio a fronte della domanda che eh che viene fatta spesso quella della durabilità è il capitolo riferito ai principali caratteristiche prestazionali e alla cosiddetta working life quindi l'aspettativa di vita l'aspettativa di vita all'interno dell'etac 005 è catalogata con tre livelli W1 si intende 5 anni W2 10 anni W3 25 anni questa gialla è un esempio di etichetta di marcatura CE che voi ritroverete su il packaging dei nostri prodotti poi prendete la latta del prodotto questo nello specifico è il psicolastic 612 ecco voi ritrovate questa tabellina accanto al marchio CE e uno dei parametri più interessanti è appunto come dicevo questo questa sigla W2 riferita alla etac 005 quindi la norma fissata la normativa e riferito al prodotto abbiamo un livello W2 che cosa vuol dire che un organismo esterno qui indicato con con questo numero che sta ad indicare l'ente notificatore e riferito a questo certificato perché qua c'è tanto di età numero e c'è il numero proprio del certificato che oltretutto è pubblico e disponibile ecco questo documento attesta che questo prodotto specifico ha una durabilità di W2 10 anni quindi quando io ti dico che si calassi 612 applicato come diciamo noi nel rispetto della nostra scheda tecnica dura 10 anni non è per un sulla base di un volantino o di una pubblicità o di una stima mia o di chi altri e fa è una durabilità attestata da un organismo esterno accreditato a livello europeo sulla base di una linea guida europea uguale per tutti però questo scusano invece stante il fatto di una corretta posa di un uso non particolarmente improprio mi dà comunque una stima a spanne di quando fare di quando fare un intervento di manutenzione poi programmata quindi poter programmare diciamo un ciclo di manutenzione assolutamente assolutamente tant'è che spesso e volentieri noi addirittura proprio in quest'ottica consigliamo di applicare il prodotto siccome tutti i prodotti impermeabilizzanti tutti a 360 gradi si consiglia sempre da da quelli cementizi a quelli poliuretanici a quelli a quelli si consiglia sempre di applicarli in due strati noi consigliamo di applicare il primo strato di un colore contrastante rispetto al secondo faccio un esempio se io faccio il primo strato arancione e lo strato a vista bianco perché magari mi serve un'altra riflettanza solare bene mio tetto è bianco a fine lavoro quando arriviamo allo scadere dei dieci cinque venticinque anni che siano io mi aspetto non che il mio tetto perda ma che il mio tetto da bianco che era inizia a diventare arancione questo vuol dire è anche un campanello d'allarme per dire attenzione avevamo stimato una durabilità di dieci anni siamo arrivati alla fine prima che il tetto perda le proprietà di impermeabilità perché di solito noi attribuiamo allo strato di fondo l'impermeabilità e allo strato superficiale di finitura la resistenza ai raggi UV viene meno lo strato superficiale ok non vuol dire che il tuo tetto sta sta perdendo o che ha rischio di perdite ma vuol dire che è venuto a meno quello che lo strato di protezione quindi arrivato allo scadere di dieci anni sarà sufficiente intervenire con una nuova applicazione di che cosa del 50 per cento cioè lo strato superficiale non di tutto il sistema certo rimani un attimo su questa slide perché ci chiedono sopra i codici che c'è sopra la scritta e tag cosa rappresenta il codice del prodotto in quel caso esattamente ok ok perfetto sì sì non era già sufficiente come risposta prego ecco qua abbiamo allora questa è come dicevo l'etichetta che ritrovate sul prodotto sul packaging che andate a comprare ovviamente questa tutte queste informazioni poi vengono riassunte in maniera più formale in un documento che si chiama DOP se volete dichiarazione di prestazioni che diciamo riassume anzi descrive in maniera più più ampia quello che era riassunto in quell'etichetta quindi c'è appunto il codice di riferimento eccolo qua che mi avete chiesto c'è la normativa di riferimento utilizzata c'è l'ente notificatore e poi ci sono le caratteristiche prestazionali qua vedete il w2 il livello ecco questo è per dire che tutte le caratteristiche indicate sono quando io appunto dico che un sistema ha una durabilità di dieci anni lo dico perché ho un documento è scritto e posso questo documento viene rilasciato timbrato e firmato da me dal direttore generale dove le caratteristiche sono attestate ai livelli che abbiamo detto prendiamo ora le membrane liquide in termini generali i vantaggi come ho detto sicuramente le membrane liquide da queste foto si capisce che sono particolarmente vincenti ed efficaci quanto più la copertura è soggetta ad attraversamenti e corpi passanti appunto o irregolarità della struttura sicuramente intervenire con una guaina bituminosa o con un manto sintetico su una copertura di questo genere diventa estremamente complesso dispendioso critico con una membrana liquida non dico che sia una passeggiata ma è sicuramente più semplice abbiamo la possibilità oltre alle membrane liquide applicazione manuale abbiamo la possibilità di fornire anche membrane che poi vedremo in coda questa presentazione membrane a spruzzo a caldo queste ancora più ancora maggiormente diventano efficaci e vantaggiose in queste situazioni di difficile accessibilità della copertura perché l'applicazione a spruzzo permette facilmente di andare all'interno di qualsiasi area anche di difficile accessibilità e riuscire ad applicare lo stato impermeabilizzante che c'è necessario ecco questo è proprio riferimento che facevo ieri quando dicevo alle persone che ci hanno seguito aspettate domani perché vedremo che ci sono comunque dei vantaggi anche sugli altri sistemi dovuti proprio come come vediamo in questo caso alla particolarità del supporto che dobbiamo andare a trattare quindi a quanto è magari affollato da da altri elementi ecco e questo deve essere anche la discriminante per scegliere un sistema piuttosto che l'altro perché ripeto sicca con le ultime acquisizioni diciamo che può offrire un panorama completo di una gamma completa di soluzioni dai manti sintetici a guaine bituminose per l'otticimentizia guaine liquide quelle manuali quelle a spruzzo c'è tutto allora uno dice siccome l'obiettivo non è quello di denigrare un sistema a vantaggio di un altro io non è che dico le membrane liquide di cui vi parlo oggi sono migliori di una guaina bituminosa piuttosto che di un telo a membrana in pvc no sono prodotti equivalenti dipende dalle casistiche di applicazione e dai requisiti del cantiere specifico certo che se come in questa foto mi trovo in questa applicazione non vado a pensare a utilizzare un manto sintetico ma prediligo una soluzione con una membrana liquida se possibile addirittura a spruzzo a caldo se mi trovo invece una superficie perfettamente piana come un'autostrada libera allora sicuramente un telo sintetico piuttosto che una guaina bituminosa diventano più competitivi ecco qui ho riassunto proprio seguendo quello che stiamo dicendo una lista della spesa dei vantaggi che possono portare alla scelta di membrane liquide una facilità di esecuzione dei dettagli l'utilizzo di prodotti monocomponenti non devo miscelarli la maggior parte delle nostre guaine liquide sono monocomponenti a parte quella spruzzo a caldo e quindi sono prodotti pronto all'uso non hanno saldature capite che tutte le saldature su una guaina rappresentano un possibile punto critico se eseguite a dovere non lo sono ma sono comunque un punto critico un sistema impermeabilizzante liquido che diventa tutto un pezzo una volta in asciutto capite che non ha saldature quindi non ha tutte queste criticità applicazione a spruzzo pennello rullo diventa accessibile a chiunque applicabili in condizioni più svariate abbiamo sistemi che resistono da subito alla pioggia quindi io intervengo poco dopo nel pomeriggio dopo pochi minuti inizia a piovere la mia guaina liquida non si dilava quindi abbiamo anche tecnologie di questo genere l'applicazione senza fiamme libere capite cosa vuol dire salire su un tetto con un secchio e un rullo piuttosto che salire con dei rotoli e attrezzature una bombola di gas eseguire delle lavorazioni in alcune zone ad esempio in pianti industriali o scuole eccetera tutte volte non è addirittura ammesso ciò facilmente riparabile e rinnovabile le guaine liquide come dicevamo all'inizio arrivate a fine vita sono facilmente rinnovabili sostituendo semplicemente la lo strato superficiale o se danneggiate sono riparabili perché si saldano con se stessi adesso non entro in merito tutti gli altri vantaggi l'elasticità la pedonabilità ne abbiamo pedonabili o meno la permeabilità al vapore ultimo ma non meno importante possono migliorare l'efficienza energetica che cosa vuol dire beh qui ne abbiamo un caso un esempio stampante qui stiamo parlando di un stabilimento siamo sopra al lago di como a gordona dove c'è lo stabilimento questo è lo stabilimento sperlari e la copertura aveva bisogno di essere impermeabilizzata si è scelto di intervenire anche con una finitura ad alta riflettanza solare e vi dico questa foto questa mia questa è la mia mano e devo dire sono rimasto anch'io impressionato a vedere che il termometro laser puntato sulla guaina bituminosa segnala 70 gradi e il termometro puntato sullo strato ad alta riflettanza solo 40 capite che questa è la differenza di riflettante di temperatura può voler dire molto in termini di costi di raffrescamento delle strutture sottostanti tenete conto che questi che vedete bianchi sono 800 metri quadri il capannone hanno circa 8000 metri quadri in totale la committenza 22 riflessioni le fa nel momento in cui si accorge che la rilevata riflettanza permette di evitare il suo riscaldamento della copertura e tutto questo poi si concretizza nel sistema cosiddetto cool cool roof esistono diverse documentazioni abbiamo anche una brochure da cui è tratta questa slide dove è stato addirittura in svizzera è eseguito un esempio un monitoraggio su un caso reale per vedere in termini di euro proprio quasi parla di 41 mila e 700 euro si è fatto un conto economico per andare a determinare esattamente quanto sia il risparmio economico qua nell'arco di 25 anni adesso non entro in merito ma qui è stata fatta una simulazione per valutare su questo edificio nell'arco di 25 anni quanto sia il risparmio economico in termini di costi di raffrescamento quindi anche questo è un aspetto importante allora questa è già un argomento comunque che avevamo anche approfondito ieri con l'altra con l'altra tipologia delle membrane io t'ho interrotto perché in realtà stanno arrivando tantissime domande proprio in cui secondo me già come era un po successo ieri dobbiamo fare un attimino di chiarezza e quindi gettare dei paletti un attimino per quanto riguarda partendo proprio dal supporto perché allora ieri era stato trattato poi appunto con le domande il tema di come doveva essere trattato il supporto iniziale qua stanno invece arrivando delle domande che vanno un pochino magari anche chiarite nel senso ci chiedono se è applicabile su manti in tegole per esempio questa soluzione diciamo che come tipologia di supporti le membrane liquide possono andare ovunque si va dalle vecchie guaine i vecchi manti in pvc le un massetto impermeabilizzato con un impermeabilizzante cementizio classico analizzante cementizio si può andare anche su supporti in laterizio tegole cose di questo genere sinceramente lo sconsigliamo lo sconsigliamo per un motivo banale ma ci pensate abbastanza evidente su una tegola la tegola è fatta per lavorare a sbalzo in modo che l'acqua scorra su una superficie e man mano abalze scenda valle scori fuori lo strato in tegole non è impermeabile perché le tegole tra una e l'altra non sono impermeabilizzate l'acqua libera discorre anche parzialmente al di sotto delle tegole no se applichiamo una membrana liquida certo si può applicare attacca benissimo sulle tegole ma non è facile con un prodotto liquido andare a saturare tutte le intercapedini che possono esserci tra una tegola e l'altra che in maniera normale le tegole funzionano perfettamente senza essere sigillate l'una con l'altra perché l'acqua scorre se per caso scorre sotto una tegola incontra le altre sottostanti e poi scorre a valle no se tu applichi una membrana liquida su tutta la superficie delle tegole a volte è capitato che hai l'effetto opposto nel senso che l'acqua che magari in alcune zone riesce a filtrare sotto le tegole se poi arriva sotto e non riesce a sfogare perché sotto tu hai messo una membrana liquida fa un effetto sacco che una volta pieno ti riversa l'acqua all'interno quindi di solito su rivestimenti in tegole non si applicano le riguaglie liquide si possono applicare solo se ci si pone l'obiettivo di saturare tutto il tetto con la guarina liquida e non vedere più quindi la le discontinuità tra le varie tegole è stato fatto ad esempio di recente con con l'ausilio delle delle dei sistemi isolanti a spruzza caldo noi adesso non è quello il tema di oggi ma abbiamo anche delle schiume isolanti che si applicano tutta superficie a questo punto tu sopra le tregole spruzzi questa schiuma fai uno strato magari di due o tre centimetri che livella che diciamo così realizza un ulteriore stato uniformante sopra tutte le tegole allora a quel punto si sopra puoi mettere una guaina liquida in maniera efficace spero di aver chiarito quello che ok allora si hai chiarito anche se devo essere sincero ne stanno arrivando tante vediamo però di butto di proprio qualche domanda a cui magari ti chiedo una risposta secca mi chiedo scusa se interrompo adesso con queste domande qua però secondo me deve essere una chiarezza delle cose allora ci chiedono tu hai detto sì la tegola sì però con determinate caratteristiche l'altra domanda che arrivava è se assecondano il naturale movimento della stupiera sottostante o se si verificano micro lesioni veicolo di infiltrazioni di acque meteoriche questo chiaramente vale per determinati tipi di supporti che sono più soggetti a movimenti di questo tipo sono in grado di assecondare assolutamente sì parliamo di membrane liquide elastiche quindi ad elevata elasticità non parliamo di prodotti cementizi non parliamo di prodotti acrilici la maggior parte delle nostre guane liquide sono a base poliuretanica abbiamo anche la gamma di prodotti acrilici ma entrambi sia critici che poliuretanici ad elevata elasticità capacità di far ponte sulle fessure poi ovvio che se la struttura si muove in maniera anomala anche queste possono essere soggetto a fessurazioni ma sono comunque in grado di assecondare tranquillamente i normali movimenti della struttura ok allora un'altra domanda che ha a che fare con questo aspetto qua allora è duplice la dom c'è ne sono arrivate due ma vedo di fare un attimino una sintesi si possono applicare anche al di sopra di una pavimentazione ingress e aggiungo un'altra pezzo di domanda aspetta che era arrivata prima e ci chiedono se anche una versione trasparente allora entrambe si si possono applicare sul gres ovviamente il gres essendo porcellanato essendo comunque molto chiuso in superficie richiede idonei sistemi di pretrattamento che nel caso del delle guane liquide colorate la cosa più semplice è una leggera versione la cosa più semplice ed efficace è una leggera versione per quanto riguarda invece quelle trasparenti non potendo fare una versione perché se no non ha senso il trasparente perché si andrebbe a danneggiare l'aspetto estetico della piastrella nel caso trasparente esiste un apposito primer che permette l'adesione della guaina liquida anche su supporti porcellanati ok allora adesso facciamo andare avanti il nostro Michele stanno arrivando tante domande su casi specifici lo posso usare in questa situazione lo posso usare in quest'altra allora io ho visto che sono tante cerchiamo se possibile di rimandarle alla fine quindi voi le scrivete io le catalogo un attimino e vediamo se magari c'è tempo di farle alla fine in alternativa il caso per caso di utilizzi questo genere viene comunque risposto poi in formato scritto via post elettronica nei prossimi giorni quindi la risposta anche se non data oggi per motivi di tempo ovviamente la ricevete però direi di lasciare andare un pochino avanti adesso il nostro Michele prego bene venendo a quello che è l'aspetto prettamente pratico di cosa parliamo abbiamo detto una guaina liquida applicata a spruzzo o manualmente l'applicazione che cosa comporta le guaine liquide manuali nostre richiedono sempre tassativamente ad eccezione di quelle trasparenti la stuoia di rinforzo si parla di una stuoia di rinforzo in fibra di vetro che vedete qui viene applicata su uno strato di prodotto quindi si applica il prodotto si applica la stuoia soprattutto prima di primariamente in corrispondenza dei raccordi pareti e pavimento e poi a tutta superficie applicata su uno strato di prodotto liquido appena ancora fresco appena applicato e poi successivamente viene impregnata e poi data la seconda mano di guaina liquida l'applicazione è molto semplice adatta ad applicatori più o meno professionale anche come dicevo la stuoia è una storia in fibra di vetro da 225 grammi si chiama il nome e cognome sicari matt premium o ci tengo a spendere due parole su questo su questo accessorio perché in passato abbiamo riscontrato che come altri abbiamo trovato grosse difficoltà nell'utilizzo dei classici tessuti non tessuti che utilizzavamo anche noi all'inizio perché il tessuto non tessuto è un ottimo rinforzo ma nel momento in cui io ho una piccola regoletta del supporto va tagliato va fatto un lavoro di sartoria ed è difficilmente raccordare adattabile a supporti regolari ad esempio una struttura circolare piuttosto che un camino diventa estremamente complesso andarlo a raccordare la storia in fibra di vetro che vedete qui una volta impregnata nel prodotto le fibre si liberano e facilmente possono essere modellate intorno a qualsiasi forma posso fare anche la forma di un vaso per assurdo senza o di un camino che si raccorda a una struttura pavimento altro elemento fondamentale è consumo spessore durabilità abbiamo detto che ci sono dei parametri molto chiari le linee guida danno una classe di durabilità ad esempio w1 w2 w3 che è riferibile a 5 10 25 anni bene tutto questo è inevitabile che deve essere collegato ed è collegato a uno spessore cioè il mio materiale ha ottenuto una classe mettiamo di w2 10 anni ma perché io ho mandato a testare un determinato spessore se viene meno quello spessore viene meno anche la durabilità ecco come faccio a garantire lo spessore su una copertura uno stratagemma abbastanza banale ma abbastanza efficace è quello di suddividere la copertura in in aree e distribuire le latte di prodotto che devo applicare su questi riquadri e sapere che la latta deve essere consumata in questa zona primo accorgimento secondo accorgimento è quello di utilizzare due colorazioni nel senso che avendo una prima mano ad esempio in questo caso la prima mano è di colore rosso e la seconda mano è colore bianco beh allora io facilmente mi accorgo se in qualche zona non ho messo sufficientemente materiale sufficiente materiale perché vedo che il bianco non copre a dovere vi garantisco che su una copertura d'estate al sole fare due mani di colore bianco sfido io riuscire a capire se in una zona tu hai già messo o no il prodotto tante volte è estremamente difficile e soprattutto di identificare il quantitativo avendo questa accortezza sicuramente è più facile accorgersi del corretto consumo un altro elemento importante scusami aspetta ma esistono anche perché ieri poi rispetto a queste tecnologie per misurare il corretto la corretta posa dello spessore hanno arrivate domande se su superfici più grandi esistono anche delle prove strumentali eventualmente sicuramente sì la prova strumentale però è invasiva perché prevede un saggio quindi una carottatura un taglio di un piccolo tassello di materiale per andare a vedere i film secco di materiale applicato che spessore ha sicuramente la direzione lavori è importante che faccia questi controlli ma prima ancora è fondamentale che l'applicatore metta in essere questi accorgimenti per fare in modo che lo spessore del prodotto applicato sia corretto perché chiaramente non è nascondersi detto un dito se un applicatore come stanno lavorando in questa foto doveva usare 10 latte e a fine giornata la torna in cantiere fanno il conteggio in magazzino e verificano che invece che la 10 latte ne hanno usate 9 è un po' remota la possibilità che poi ritornino in cantiere riaprano il cantiere per applicare quel quantitativo mancante e quindi purtroppo può capitare che così facendo non ci sia lo spessore esattamente previsto e la durabilità venga anche a essere inferiore a quella che ci si aspettava quindi il fatto di lasciare le latte sulla copertura e consumarle tutte abbiamo una garanzia che in termini generali di totale lavoro io ho consumato tutto quello che andava consumato e poi localmente per andare a garantire in tutti i punti il corretto consumo avendo due colori diversi è già un elemento chiave per per avere un controllo delle zone trattate con ciascuna mano e l'altro elemento fondamentale è l'utilizzo della stoia la stoia in fibra di vetro oltre la funzione di rinforzo che quella primaria anche la funzione di controllo del consumo dello spessore perché se io non applico quantitativo corretto la stoia mi rimane arrufata non impregnata correttamente quindi anche un applicatore immediatamente si accorge che il quantitativo non è corretto ok si lascia proseguire sia ogni tanto mi distrago ma perché stanno cercando di dire che a pensarmi un attimino prego mica un altro elemento chiave perché uno applicatore può mettere in essere tutti questi accorgimenti con queste attenzioni ma è altrettanto importante che si prenda cura di quelle che noi chiamiamo terminazioni cioè per disporre idonei raccordi con le esistenti strutture se io la superficie del pavimento e poi una parete mettiamo caso come in questa foto di mattoni è chiaro che con la pioggia i mattoni possono impregnarsi di acqua e nella parte sottostante buttare fuori dei sali se io ho finito il mio sistema impermeabilizzante semplicemente piantato lì in verticale in questa stratigrafia per ipotesi arrivando solo fino al punto 2 mi fermo qui se questo muro si inzuppa di di acqua e poi qui mi butta fuori i sali e questa membrana piantata qui in verticale inizia a sbucciarsi ad aprirsi viene meno l'adesione si infiltra dell'acqua e tutti gli accorgimenti che io ho messo in essere spessori stuoia mica stuoia vengono vanificati quindi è importante se possibile arrivare fino a rompigoccia se c'è un moretto perimetrale oppure se possibile ancora risvoltare e scendere dall'altro lato un sistema indicato in questa foto è quella di fare quando possibile non sempre si può fare ma se possibile fare un taglio all'altezza oltre a quella che è dell'altezza del livello del troppo pieno per far risvoltare all'interno la mia membrana liquida vedete qua in verticale sale risvolta nel taglio poi io vado a sigillare con un sigillante il taglio ma a questo punto io ho la certezza che il finale terminazione cosiddetta della mia membrana liquida è in condizioni di sicurezza comunque tenete conto che SICA è in grado di fornirvi un'ampia gamma di disegni e stratigrafie che vanno a diciamo a guidarvi per quello che l'ottimale stratigrafia e progettazione di dettagli qua vediamo il classico attraversamento piuttosto che il raccordo con strutture metalliche una casistica abbastanza frequente quella di utilizzare le guaine liquide per ripestinare l'impermeabilità di coperture metalliche ecco tenete conto che in quest'ottica la guaina liquida è molto efficace non richiede neanche l'utilizzo di suoia in fibra di vetro ma è fondamentale trattare i solmonti i solmonti come perché siccome l'elemento metallico è soggetto all'estate all'inverno con la forte escursione termica a dilatazioni importanti e i giunti qua diciamo schematizzati sono soggetti a forti movimenti le guaine liquide richiedono particolari accorgimenti cioè l'interposizione di un nastro butilico qua indicato in azzurro che permette lo scorrimento della guaina liquida fa ponte diciamo così sulla giunzione e poi quello qua schematizzato in nero un rinforzo elastico il cosiddetto che per noi il nome commerciale si chiama flexi flexi tape heavy diciamo che è un rinforzo che a differenza della sua in fibra di vetro che è tendenzialmente rigida il flexi tape heavy è un rinforzo elastico che in abbinamento con il nastro butilico permette di far ponte sulla zona di forte movimento questo si usa anche per il trattamento di aggiunti strutturali assolutamente sì ok perché era un'altra domanda che è arrivata come si trattano quelli quegli aspetti poi all'occorrenza abbiamo anche altri sistemi aggiuntivi ma non entro in merito dei nastri di diverso genere comunque tendenzialmente a livello di copertura si interviene come schematizzato qui poi all'occorrenza abbiamo anche altri nastri a disposizione tutte queste indicazioni comunque che vi sto dicendo le riportate le trovate riportate per file per segno sulle nostre schede tecniche nostre schede tecniche tante volte possono sembrare un po noiose perché sono molto lunghe e prevedono tutte questi accorgimenti ciò che non è riportato all'interno delle schede tecniche che ultimamente sono state leggermente accorciate ma tutti i contenuti che non tutti questi accorgimenti questi diciamo trucchi che vi sto dicendo questi accorgimenti li ritrovate nei cosiddetti metto statement metto statement è un documento di diverse pagine che prevede tutti gli accorgimenti per il corretto utilizzo di un prodotto quindi insieme alla scheda tecnica il metto statement è l'altro documento che permette l'ottimale utilizzo dei materiali poi per guidare il progettista o l'utilizzatore a corretta descrizione dell'intervento abbiamo i cosiddetti capitolati tecnici standard un capitolato essenzialmente è più di quello che di solito viene considerato come capitolato che di solito è un trafiletto con le caratteristiche del prodotto e basta qui viene indicato similmente al metto statement ma è indicato in maniera discorsiva i requisiti e le modalità di intervento per ogni tipologia di supporto quindi faccio un esempio la guaina bituminosa bene come deve essere che caratteristiche deve avere come devo trattarla e poi la stratigrafia proprio vera e proprio dell'intervento che devo andare a fare questi sono tutti i documenti disponibili pubblici che potete richiedere da avere se poi vi piace essere più autonomi esiste un portale un sito dove c'è questa app disponibile sia per smartphone sia per tablet dove una volta scaricata voi potete inserire i requisiti i parametri di tutte le informazioni riferite in un progetto e il sistema ti mette come output un capitolato fatto e finito questo riguarda però non solo le guaine liquide ma riguarda tutti i prodotti sica esiste parallelamente a questo un altro portale che vedete l'indirizzo sica spec è un'applicazione anch'essa destinata a creare dei capitolati veri propri questa seconda applicazione è più dedicata al mondo degli applicatori specializzati prevede è orientata ai sistemi in comandi sintetici e per quanto riguarda le membrane liquide alle membrane liquide a caldo a spruzzo a caldo o a quelle ad elevate performance però diciamo che entrambi i sistemi sono accessibili e attraverso questo anche attraverso questo secondo sistema si può ottenere come risultato l'emissione di un capitolato tecnico quindi anche in questo secondo caso vengono richiesti i parametri del progetto i requisiti e con un sistema di scelta a domande il sistema vi porta alla emissione di un capitolato tecnico ve li metto magari qua in chat i due indirizzi così li potete ritrovare bene detto questo veniamo a due parole in merito ai prodotti su cui focalizziamo l'attenzione prodotto vero e proprio se si tratta di qua ho descritto un'esigenza impermeabilizzare a vista coperture quindi io ho una copertura in guaina o una copertura un massetto cementizio e ho bisogno di impermeabilizzarla oppure un balcone un balcone che ha bisogno di essere impermeabilizzato e invece faccio un esempio invece dei tradizionali impermeabilizzanti cementizi classici relativamente rigidi o sicuramente più meno elastici delle guane liquide di cui stiamo parlando ecco se devo intervenire con un prodotto prodotto principe la soluzione sic a è essi calarsi 612 perché si calarsi 612 è il prodotto nostro più versatile diciamo che il primo prodotto che i nostri clienti devono utilizzare è una membrana liquida a base di rilassomeri poliuretanici monocomponente i campi di applicazione dalle foto credo che siano abbastanza immediati impermeabilizzazione coperture nuove in per me ripristino di impermeabilizzazione esistenti oppure impermeabilizzazione sotto piastrella e nell'ambito di quest'ultima applicazione il prodotto è marcato c e secondo 15 0 14 8 9 1 che è la normativa di riferimento per quello che riguarda gli impermeabilizzanti sotto piastrella disponibile in colore bianco grigio e terracotta questo bollino sta da denotare la particolare tecnologia sic a la sic 612 è basato su una tecnologia cosiddetta mtc che sta per moisture trigger chemistry di fatto in due parole è una tecnologia che permette al prodotto di indurire e di essere da subito resistente alla piova pioggia qui vedete adesso si vede male ma su questo bollino è indicato un rullo e poco dopo ci sta piovendo sopra sic a la si 612 o tutti i nostri materiali caratterizzati da contraddistinti da questa tecnologia da subito sono esistenti alla pioggia quindi io lo applico se sta arrivando un temporale si finiscono l'applicazione ci piove sopra il prodotto indurisce ed è già impermeabile anche sotto la pioggia finché anche se è ancora fresco ci chiedono se un base acqua o a base solvente a base solvente a base solvente qui è un breve video mi piacerebbe farvelo vedere dove lo stai vedendo marco si vede sì sì lo stiamo vedendo e ti sentiamo anche ok allora nel video si vede l'utilizzo tipico del ciclastic 612 per l'impermeabilizzazione ad esempio di una vecchia guaina bituminosa un tetto in guaina bituminosa che perde io intervengo e senza rimuoverlo semplicemente proteggendo quasi vedere le zone circostanti che non devono essere sporcate con nastro di carta applicazione della prima mano di prodotto il prodotto deve essere applicato in abbondanza per intenderci la durabilità garantita dei dei dieci anni è attribuita a un consumo di due chili e otto di materiale due chili e otto di materiale mi genera un millimetro e quattro di spessore ed è quello che è stato oggetto di test sulla prima mano abbondante ripeto viene applicata la stoia di rinforzo in fibra di vetro non deve meravigliare che la storia inizialmente si increspi perché la storia è ha bisogno semplicemente di qualche minuto per impregnarsi una volta impregnata può essere lavorata e qualsiasi crepa qualsiasi piega viene facilmente appianata semplicemente lavorando il prodotto con il rollo è un'applicazione del tutto manuale che permette di ottenere una superficie continua anche in presenza di dettagli complessi viene applicata quindi la prima mano poi si procede si inizia sicuramente dai dettagli abbiamo iniziato sul verticale e poi si è proceduti con le zone orizzontali una volta indurito dopo poche ore perché prodotto in poche ore asciutto si è visto una leggera carteggiata per togliere eventuali irregolarità e si applica la seconda mano vedete qua il colore contrastante si è scelto il grigio e sul grigio si applica la mano bianca questo aiuta a controllare che lo spessore e la regolarità del rivestimento e poi monitorare il degrado nell'ambito nell'arco del tempo è un prodotto rapido indurimento permeabile al vapore pronto all'uso è facile d'applicazione e una volta indurito da origine a uno rivestimento senza giunzioni guarda nel frattempo che torni alla presentazione immagino ci chiedono se può essere usata su tutte le guaine oppure se ha dei limiti applicativi no su tutte le guaine ok perfetto poi ci possono essere accorgimenti di idoneo primer se vado su una guaina in un primer per pvc se ho una guaina vitaminosa cioè si consiglia un primer specifico ma non è la tipologia di guaina non è limitante ok tempi di pedonabilità tu hai parlato di tempi di asciugatura ma tempi di pedonabilità ci chiedono una volta applicato allora i tempi di pedonabilità sono strettamente collegati alle condizioni ambientali nel senso che il materiale indurisce principalmente per l'evaporazione solvente e per reazione con l'umidità dell'aria quindi più fa caldo e umido più l'indurimento è veloce più fa freddo e secco più l'indurimento è lento tendenzialmente per avere un'idea dell'ordine di grandezza d'estate una giornata di caldo umido d'estate in due o tre ore io posso di nuovo applicare la seconda mano si stanno arrivando tante domande ho bisogno un attimino di raccogliere quindi mi scuso se non le faccio subito arrivano tutte e tranquillizzo tutti che stanno arrivando vai avanti poi ce le teniamo un po per dopo ok nel frattempo qui vedete la sistema tipico su membrane bituminose e diciamo su tutti i supporti cioè prevede la prima mano da circa un chilo e otto chilo è un consumo molto elevato è perché effettivamente applicare un chilo e otto di materiale vuol dire mettere giù un quantitativo che nessun applicatore metterebbe se non è stato espressamente invitato a farlo perché mettere un chilo e otto vuol dire avere la sensazione di sbrodolare materiale ecco il concetto non è che vogliamo spingervi a usare più materiali quanto ne serva tanto due chili e otto totali vanno usate due chili e otto a metro quadro vanno applicati quindi il corretto modo per poter impregnare al meglio la storia e di buttare giù circa un chilo e otto di materiale impregnare la storia e appena asciutto e posso perdonare o anche il giorno dopo applicare l'altro chilo che masca nell'ambito di applicazioni sotto piastrella il prodotto viene applicato similmente marco la differenza che lo stato impermeabilizzante essendo molto liscio gommoso impedisce un corretto una corretta adesione del collante cementizio delle piastrelle quindi non ci sarebbero problemi di impermeabilità ma ci sarebbe la piastrella che difficilmente riesce ad avere grip su una guaina elastica gommosa quindi come si fa una volta applicati i primi due strati si applica un ulteriore strato a rullo da circa 300 grammi al metro quadro sul quale si va a seminare della sabbia si semina proprio come fosse manualmente con un'operazione di semina si ottiene quell'effetto chiamiamolo cotoletta impanata piuttosto che carta retrata che una volta tolto l'eccesso di sabbia permette un'ottimale adesione delle successive collante da piastrelle in questo caso non serve la fibra di vetro quindi quella storia ci sta messo caso teoricamente non serve cioè a livello ufficiale noi test abbiamo superati senza qui non è indicata ma io consiglio se è possibile comunque di inserirla perché è un margine di sicurezza in più che si viene avere e che permette di stare un po più tranquilli non è obbligatorio ok due domande ancora secche scusami non ci dicono non vedo mai in queste stratigrafie un primer seconda cosa ci chiedono quindi su un'applicazione di questo tipo che adesivo uso per incollare le piastrelle allora il primer non c'è perché non è obbligatorio quindi non è obbligatorio e quindi non ha senso d'ufficio indicarlo all'occorrenza io consiglio sempre di usare un pizzico di buon senso che cosa vuol dire io ti dico che il primer non serve perché l'adesione raggiunge i requisiti di sicurezza il prodotto tal quale senza nessun primer certo è che se sto applicando il mio materiale mi accorgo che per terra c'è un massetto che per diversi motivi si è bruciato sfarina o ha giù dei residui di vecchi collanti non so qualcosa allora in quel caso un primer è consigliabile utilizzarlo ne abbiamo diversi si sceglie all'occorrenza ma in condizioni normali mettiamo io vado su un massetto sano o su una guaina bituminosa adesiata sana il primer non serve l'altra cosa che mi chiedevi e che tipologia di adesivo uso per incollare le piastrelle in un'applicazione l'adesivo passativo che sia almeno un s1 quindi ad elevata deformabilità perché andiamo con un adesivo sopra a una guaina gommosa elastica anche il collante da piastrelle è vero che gli abbiamo fatto lo spolvero di sabbia per migliorare l'adesione ma se il collante è flessibile aiuta meglio a sopportare i movimenti dell'intero sistema effetto ti lascio bene due parole per quello che sono i sistemi spruzzo a caldo allora sempre rimanendo nel mondo delle membrane liquide abbiamo detto che disponiamo non solo di sistemi manuali ma di sistemi anche a spruzzo a caldo che cosa sono beh penso che la foto parli abbastanza chiaro non sono chiaramente delle tecnologie adatte a operatori non professionali quindi parliamo di tecnologie particolari che richiedono un'attrezzatura pompante dedicata un'apprezzatura che deve deve essere in grado di portare il prodotto a 70 gradi e a spruzzarlo a circa 200 bar quindi di pressione quindi capite la rilevanza dell'apprezzatura pompante da utilizzare e il fatto che a differenza delle membrane liquide alle applicazioni manuali che possono essere disponibili e trovate anche nell'ambito del fai da te di ayy mentre invece qui parliamo di applicazioni del tutto professionali che però possono essere realizzate e hanno anch'esse il loro perché nel senso che se io devo intervenire su un terrazzo o un piccolo tetto sicuramente il prodotto applicazione manuale è più conveniente più facile più versatile ma nel momento in cui devo andare a realizzare una struttura complessa ricca di attraversamenti e quindi la guaina bituminosa più che il telo in pvc diventano proibitivi perché non riesco a fare tutto il lavoro di sartoria che mi è richiesto per andare intorno a tubazioni passanti eccetera bene e le guaine liquide sono sicuramente vincenti e se ho delle ammettature importanti l'applicazione a spruzzo come in questo caso diventa vincente quando si vede si vedono operatori che fanno questo tipo di lavorazione spesso si identifica questa tecnologia con maniera volgare si parla di poliorea la poliorea non è detto che sia sempre poliorea potrebbe essere poliorea potrebbe essere poliuretano o ibrido che cos'è la poliorea poliorea è diciamo un composto chimico nell'astomero che è realizzato dall'unione di nel secondo caso di ammina più isocenato sono due componenti prodotto è fornito in fusti classici barili da 200 litri il fusto tendenzialmente di solito è quello rosso contiene isocenato e il fusto dell'altro colore che può essere giallo o nero contiene se contiene ammina almeno l'ottanta per cento dalla miscela di questi due componenti ne deriva una poliorea pura se invece il primo componente è sempre isocenato ma nel secondo fusto invece che esserci una polieteramina una mina c'è un poliolo la miscela dei due componenti mi porta ad avere come reazione un poliuretano tutti i composti che sono in mezzo a queste due variabili sono i definiti ibridi quindi ibrido è un prodotto di componente che ha sempre disocenato come reagente ma l'altro componente non è un poliolo non è una polieteramina è un misto tra i due questo per dire tendenzialmente che che cosa sono questo tipo di tecnologie tenendo conto che la poliorea nello specifico quando è pura quando è definita pura e quindi ha sopra l'ottanta per cento di polieteramina è anche uv resistente e quindi ne permette un utilizzo anche senza finitura è direttamente rilasciata esposta ai raggi uv come vi ho spiegato l'applicazione è molto critica e qui vi ho descritto che cosa la dotazione diciamo dotazione minima di necessaria per poter eseguire correttamente un'applicazione di questi materiali che cosa serve il materiale fornito in fursi a 200 litri con delle fasce riscaldanti che riportano in temperatura materiale un generatore importante perché dall'altro lato abbiamo un'attrezzatura pompante che deve scaldare il materiale a 70 gradi e portarlo a oltre 150 ai 200 bar di pressione e poi i due componenti dato che il materiale indurisce in pochi secondi nelle membrane manuali parliamo indurimento di qualche ora qui parliamo di indurimento in qualche secondo indurimento in qualche secondo vuol dire che i due componenti non possono entrare in contatto prima dell'uscita vengono tenuti separati infatti vedete che dalla macchina escono i due tubi uno blu uno rosso e rimangono separati fino alla pistola e i due componenti si miscelano solo in questo blocchetto che è la cosiddetta camera di miscelazione e all'istante vengono sparati fuori a 200 bar arrivano sul supporto e all'istante induriscono qui abbiamo un'indicazione di quello che è un produttore di macchine la magma con la quale abbiamo un'ottima collaborazione perché ci permette di di collaudare di testare i materiali ce ne sono diversi non abbiamo nessun vincolo ci sono produttori italiani come loro ci sono produttori internazionali come graco ci sono diciamo diversi produttori di macchine è importante che l'attrezzatura componente che si va ad utilizzare comunque sia collaudata e attestata essere efficace con i nostri materiali i campi di applicazione di questo tipo di prodotti a spruzzo a caldo sono quali vedete un po più tecnici un po più dedicati applicazioni applicatori professionali si parla di tetti parcheggi perché comunque questo questo tipo di membrana spruzzo oltre a essere impermeabilizzanti sono anche direttamente capabili ad elevatissima resistenza ad abrasione quindi direttamente soggette al traffico delle auto e conseguentemente possono essere utilizzate anche su impalcati di ponte o dedicate anche al contenimento idrico sono estremamente chimico resistente quindi idonea rimane a rimanere direttamente esposte all'acqua o anche agenti chimici importanti ecco sempre la foto che vi ho fatto vedere inizia poco poco fa nello specifico questo lavoro è stato realizzato con sistemi a spruzzo a caldo e questo vedete era lo stato di fatto la guaina bituminosa adesiata è stata applicata la membrana a spruzzo a caldo e è dopo pochi secondi si poteva già accanto iniziare con le opere di finitura perché la membrana a spruzzo a caldo indurisce in pochi secondi nell'arco di qualche minuto si può già procedere con l'applicazione della finitura la finitura in questo caso una finitura ad alta riflettanza che viene applicata con la classica spruzzatrice airless tenete conto per capirci questi erano 800 metri quadri e sono stati realizzati alla mia presenza in una giornata partendo dalla mattina e neanche tanto presto perché comunque la mattina c'era tutta l'umidità la rugiada quindi hanno dovuto aspettare i primi raggi del sole che scaldassero e si asciugasse la membrana bituminosa poi è stato applicato il primer e poi stato impermeabilizzante la finitura il tutto finendo alla sera alle 8 alle 9 mille metri quadri 800 metri quadri in un giorno compreso di stato impermeabilizzante finitura cosa hai trattato adesso hai accennato a questo aspetto dell'umidità del supporto adesso ritrovo bene la domanda si eccola qua come si asciuga un'eventuale umidità del supporto tu li hai fatto accenno ai raggi solari però ci possono essere delle situazioni dove quello non basta come si intervista allora io tendenzialmente sarei portato a dirti se il supporto non è asciutto si aspetta poi l'applicato gli applicatori caso per caso possono mettere in essere metodi diversi c'è ad esempio chi da una sfiammata con un cannello per aiutare l'evaporazione dell'acqua sono tutti metodi diciamo così non tanto canonici possono essere efficaci la cosa fondamentale è che prima di essere applicata il supporto deve avere un'umidità che non supera il 4 per cento poi come se li ottenga aspettando che il sole arrivi una giornata di vento o attendendo i giorni successivi perché il tempo è più bello piuttosto che intervenendo con un cannello e sfiammando la superficie importante è il risultato non tanto il metodo scusami altra domanda e vogliono sapere qualcosa in più sullo strato di finitura come composto è accennato questo strato ad altra riflettura esatto la finitura tendenzialmente viene eseguita utilizzando dei rivestimenti poliuretanici alifatici i composti chimici poliuretanici possono di solito sono divisi in due famiglie gli aromatici che sono quelli un po' più meccanicamente performanti ma che patiscono i raggi del sole e i poliuretani alifatici la famiglia alifatici sono quelli che resistono meglio ai raggi del sole ma sono anche molto più costosi il motivo per cui di solito vengono utilizzati prodotti di natura aromatica quindi che non patisco che che patiscono i raggi del sole nello stato di fondo mentre invece per lo stato di finitura si utilizzano prodotti alifatici nello specifico quella applicata in questa foto è una finitura bianca ad alta riflettanza al solare è il nostro sicalastic 621 tc ed è un poliuretano monocomponente alifatico quindi la famiglia che resiste meglio ai raggi del sole ed elastico perché come ovvio che sia dato che andiamo a mettere una finitura su un sistema elastico perché lo strato impermeabilizzante di cui parliamo ha un allungamento a rottura nell'ordine del 400 per cento quindi un centimetro viene stirato fino a quattro centimetri prima di rompersi capisci che anche sopra anche la finitura che io vado applicare sopra deve avere performance elastiche sennò si sbriciolerebbe al primo movimento certo certamente sì possiamo procedere ok possiamo procedere procedo bene nell'ambito di questi prodotti a spruzzo a caldo anche qui come abbiamo parlato per le membrane manuali di un prodotto e si casti 612 per quanto riguarda le membrane a spruzzo a caldo la tensione la focalizziamo su un prodotto e abbiamo ripeto più di 10 ma il focus è sul prodotto più versatile più efficace che il sicalastic 839 lm lm sta per low modulus e quindi sta ad indicare il basso modo elastico il modo elastico da un'indicazione della rigidezza il fatto di avere un prodotto impermeabilizzante a basso modo elastico cosa vuol dire che è bassa a bassa rigidezza quindi è soffice ed è una delle caratteristiche più interessanti di questo prodotto nel senso che da un lato è come leggete a base di poliorea pura quindi non necessita di protezione a raggio v perché è lui stabile a raggio v non si degrada è vero è soggetto a viraggio come tutti i rivestimenti ma le caratteristiche meccaniche non sono alterate quindi io posso spruzzare questo qui vedete l'applicatore che sta spruzzando su un tetto inclinato lui spruzza direttamente sulla guaina ardesiata e fine non deve fare altro non deve non è stato messo primer non è stata messa finitura applica il prodotto nudo e crudo basta il fatto di essere poliorea pura appunto permette a questo materiale di non richiedere alcuna finitura ulteriore e il fatto di essere a basso maduro elastico quindi particolarmente soffice è un grossissimo vantaggio quando andiamo su supporti come in questo caso critici una vecchia guaina che magari è malandata magari ha delle criticità ha dei soggetto magari a qualche trazione qualche movimento ecco avere un'impermeabilizzazione liquido soffice morbido che si adagia sulla superficie ma non crea attrazioni perché comunque dovete considerare che abbiamo detto che lo si trussa a 70 gradi per la fisica qualsiasi materiale a 70 gradi che poi torna a temperatura ambiente mettiamo 20 gradi ha necessariamente un movimento se questo materiale è particolarmente rigido e coriaceo il movimento poi si trasferisce alla struttura sottostante creando delle tensioni un impermeabilizzante soffice a basso modo elastico tutti questi movimenti li compensa in maniera molto più efficace senza creare tensioni sul supporto perché se io per assurdo quello che può succedere se io vado su una vecchia guaina con un impermeabilizzante troppo rigido vuol dire che al primo movimento o già nella fase di raffreddamento del materiale che cosa fa si ritira un pochino e ti solleva come lui è molto resistente cosa fa lui non si danneggia non si rompe magari anche elastico ma chi cede prima è il supporto che quindi si si strappa via il supporto mentre invece un prodotto come il ciclastico 839 essendo molto soffice ed elastico anche a fronte di del suo raffreddamento e poi di eventuali movimenti della struttura non va a sollecitare il rivestimento che c'è sotto che proprio perché andiamo a impermeabilizzarlo spesso è malandato e in cattive condizioni qui ho messo una breve lista della spesa di quelle che sono le caratteristiche cioè per intenderci ciclastico 839 perché interessante perché abbiamo 400 per cento oltre 4 per cento di allungamento elasticità pedonabile trafficabile dopo 15 minuti pedonabile trafficabile dopo 8 ore ci posso passare sopra anche con le auto per intenderci ovviamente devo avere sotto un massetto non se sotto c'è una guaina bituminosa un basso modulo elastico un'elevata resistenza attrazione direttamente un resistente un'elevata resistenza chimica quindi domani questo ma stesso materiale lo posso utilizzare per impermeabilizzare una vasca soggetta anche a aggressione chimica una volta applicato e indurito la mia struttura può andare da meno 30 gradi quindi le temperature più rigide d'inverno ai più 90 gradi la temperatura di una copertura metallica contenuto solido al cento per cento cosa vuol dire che il mio spessore che io vado ad applicare non è che quando poi asciuga si abbassa cento per cento solido vuol dire che quello che metto rimane ed è importante anche nell'ottica di garantire spessori minimi e conseguentemente è un'efficacia e protettiva del calcestruzzo del mercato CE secondo la 15.04 e poi infine l'elevata resistenza ad abrasione lo rende anche direttamente cavabile qui vedete la stratigrafia di un possibile sistema su una guaina vitaminosa cosa faccio io qua ho scritto un possibile prime ho messo anche un asterisco per ricordare che il prime non è obbligatorio ma facoltativo e poi l'applicazione dell'otto 39 otto 39 con che consumo è scritto 2000 2000 grammi 2 kg lo spessore canonico dico canonico perché si è questo tipo di prodotti sono stati oggetto di un manuale un codice di buona pratica lo trovate anche su internet se digitate codice di buona pratica poliorea c'è un'associazione la pda che è la poliorea development association di cui facciamo parte con la quale abbiamo steso questo manuale di buona pratica e sono fissati dei parametri minimi uno di questi è stato ci siamo messi d'accordo tutti i produttori e applicatori nel dire che non ha senso prevedere spessori che siano inferiori a 2 mm quindi il spessore canonico deve essere almeno di 2 mm e conseguentemente 2 kg perché abbiamo un prodotto che ha un residuo secco 100 per cento e un peso specifico intorno a 1 anche qui giusto per farvi capire per toccare quasi con mano quello di cui stiamo parlando c'è un altro video che vi faccio vedere che molto diciamo aiuta a eccoci qua qui possiamo marco mi dici si vede sì sì partito adesso perfetto allora stiamo parlando di una copertura una copertura con un tavolato in legno fissato e inchiodato sul quale viene utilizzato in questo caso è utilizzato non l'otto 39 ma un sicalastico 851 r che è un prodotto non a base poliorea pura ma un prodotto ibrido e quindi necessita tassativamente della finitura che in questo caso è stata sicalassi 621 tc l'applicazione prevede eventualmente in questo caso è stato scelto di applicare un primer esistono diverse tipologie di prime in questo caso è stato utilizzato un premio epossilico bi componente si miscelano i due componenti e poi il primer viene steso a tutta superficie su tutte le superfici primer possilico può essere applicato come in questo caso a rullo ma non è la prima volta che per motivi di velocità si può procedere anche l'applicazione con una comunissima spruzzatrice airless ovviamente stando attenti alle tempistiche perché il prodotto epossilico soprattutto in copertura con temperature calde indurisce velocemente dopo 12 ore si procede dal primer si procede all'applicazione dello stato impermeabilizzante in questo caso sicalastico 851 r questa foto lo scattata io sul tetto di un importante edificio pescara e ecco materiale fornito in fusti da 200 litri collegati all'attrezzatura pompante l'attrezzatura pompante può essere mantenuta a terra perché la tubazione di solito si agia da un minimo di 30 metri fino arrivare a 100 quindi vuol dire che io posso come in questo caso lasciare l'attrezzatura pompante da basso e intervenire con portando la tubazione sulla copertura senza aver necessità di spostare l'attrezzatura pompante qui vedete l'inserimento dei pescanti e delle pompanti le pompe di trasferimento che portano al materiale alla pompante componente leggete poliolo in questo caso e l'altro è isocianato poliolo più isocianato come avevamo visto inizialmente origina poliuretano in questo caso poliuretano ibrido vedete si procede inizialmente sempre dai dettagli i dettagli sono la parte che va trattata per prima e poi una volta trattato il dettaglio sul quale si dà una mano aggiuntiva di materiale a modo di rinforzo poi successivamente si parte con le superfici piane vedete con che facilità si eseguono un dettaglio che con un sistema tradizionale un sistema prefabbricato avrebbe richiesto una forte dispendio di tempo anche in questo caso è importante controllare il consumo prima di procedere l'applicazione si fanno sempre delle prove di spruzzo su un foglio di politilene e dato che il materiale indurisce in pochi secondi immediatamente si può valutare quanto spessore viene originato da ogni passata e conseguentemente si può dosare il quantitativo definendo quante passate realizzare poi l'applicazione della finitura in questo caso si calassi 621 tc tc sta proprio ad indicare top coat quindi stato di finitura questo caso è stata utilizzata finitura bianca sempre poliuretano monocomponente alifatico lo stesso che abbiamo visto su quella copertura bianca ad alta riflettanza in questo caso invece che una spruzzatrice di componente viene utilizzata una comunistica spruzzatrice airless ovviamente le tempistiche sono immediate perché lo stato applicato precedentemente impermeabilizzante indurisce in pochi minuti quindi giusto tempo di cambiare il prodotto e immediatamente si può procedere con la parte applicativa della finitura e qui vedete il lavoro terminato bene riprendiamo ci siamo Marco? un paio di questioni allora innanzitutto questi video li possono poi ritrovare su youtube? sì 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 ma certamente se scrivete su youtube sicalastico 851 credo che questa immagine che vedete nel mio slide credo che sia il primo video che vi compare ma questo o anche altri ce ne sono ok un paio di domande su questa questione poi ti lascio concludere le altre le teniamo per la fine quindi questo strato che stai facendo vedere di finitura ha una funzione non impermeabilizzante corretto? esattamente la finitura è una finitura e quindi ha una funzione di protezione del prodotto sottostante perché abbiamo detto che lo strato impermeabilizzante sicalastico 851 è un prodotto ibrido e non è indicato per essere lasciato esposto al RGUV quindi richiede appunto la finitura all'occorrenza se io faccio un esempio se qui invece che lasciarlo esposto a vista fosse stato tutto riempito con del terreno per mettere del tetto verde non serviva alcuna finitura in quel caso perfetto e ci chiedono se un'applicazione di questo tipo con questo tipo di tecnologia di prodotto può essere usato anche per la bonifica di tetti in amianto quindi se fa una sorta di incapsulamento sì, sicalastico 851 più un'altra finitura che è sicalastico 445 ma è del tutto analoga è certificato anche come incapsulante per il cemento amianto bisogna solo rispettare consumi differenti cioè consumi inferiori a quelli indicati in queste slide perché la funzione incapsulamento è stata superata con una stratigrafia particolare però sì, di fatto il prodotto è certificato ed è disponibile anche il certificato come incapsulante per il cemento amianto perfetto, ci chiedono poi se quella finitura che mettiamo sopra è antiradice il 621 sì, assolutamente sì, anche se oggettivamente non ha senso nel senso che come dicevo la finitura ha la sola funzione di proteggere il prodotto dai raggi ultravioletti quindi se metto il terreno non ha senso comunque sì, è comunque anche antiradice perfetto, ti lascio bene, detto questo concludo semplicemente con qualche casistica questi sono lavori recentemente eseguiti sempre tetto in guaina bituminosa diciamo che è la casistica più frequente il classico tetto in guaina bituminosa che ha bisogno di essere ripristinato e a causa dell'elevata presenza di dettagli attraversamenti lucernari viene preferito il sistema a spruzzo a caldo in questo caso siamo a Imola, a Rocepla, a 3.000 metri quadri qui siamo a Pescara, questa è la struttura di Fuxas è il quartier generale dell'Angelini, quella farmaceutici e qui sopra, adesso piccolino, si vede l'applicatore che sta applicando la finitura ecco, qui sopra c'è il tetto che qui vedete è stato impermeabilizzato con l'impermeabilizzante a spruzzo a caldo e infine qui abbiamo l'acquario di Roma in verità l'acquario sta sotto questo è il tetto, diciamo così la soletta che fa la copertura all'acquario sottostante e che è stata destinata a tetto verde quindi questo scuro che vedete è il calcestruzzo trattato con un primer epossidico sul quale viene applicato lo strato impermeabilizzante a spruzzo a caldo su questa superficie verrà poi steso lo strato drenante il terreno e poi le piante che adesso io non ho una foto ma ormai penso che siano cresciute già anche le piante perché questo è stato eseguito mi sembra almeno tre anni fa bene, con questo vi ho detto tutto è stata una breve capellata ovviamente in questa sede non sono potuto entrare più di tanto nel dettaglio di quelli che sono gli aspetti pratici applicativi può essere oggetto di corsi dedicati e niente, vi ringrazio qui vedete un simpatico esempio di quello che è un'applicazione di membrane a spruzzo a caldo in questo caso in Giappone hanno impermeabilizzato la copertura del tutto singolare di questo ristorante perfetto, perfetto allora grazie Michele per questa presentazione io andrei veloce su alcune domande ti chiedo ovviamente magari di essere anche abbastanza rapido nella risposta di modo che riusciamo in qualche minuto a dare risposte e poi come dicevo lasciamo a voi dopo dare risposta scritta ai nostri partecipanti allora tu hai concluso dicendo per mancanza di tempo non sono riuscito a entrare in alcuni dettagli però c'è un dettaglio che devo per forza chiederti te l'ho già accennato prima ma perché sono arrivate molte domande su quell'aspetto come si trattano i giunti strutturali in un'impermeabilizzazione a questo punto io ti direi di farcelo per entrambi sia con il sistema Oxpray che per quanto riguarda il sistema di prima diciamo che dipende un po' da quali tipo di giunti strutturali faccio un esempio vi sarà capitato di vedere magari due edifici attaccati dove in facciata c'è il classico lamerino lamerino dietro al quale che nasconde il giunto quello che chiamano giunto tecnico giunto strutturale tra i due elementi sulla copertura quel giunto lo ritrovate a pavimento ecco in corrispondenza di questo giunto noi prevediamo di non utilizzare direttamente le guagne liquide sia manuali che aspruzzo ma di interpore di incollare un apposito nastro che si chiama Cicadur Combiflex è un nastro elastico incollato dai due lati con un adesivo epossilico quindi si estende un po' di adesivo epossilico da un lato e dall'altro si incolla questo nastro una volta che l'adesivo epossilico è indurito l'adesivo fa da morsa e il nastro può muoversi una volta trattato in questo modo localmente giunto strutturale poi a destra e a sinistra si interviene con lo spruzzo o manuale questo per giunti strutturali importanti di rilevante dimensioni e soggetti a forti movimenti giunti strutturali relativamente fermi possono essere rivestiti direttamente con la guaina liquida semplicemente con l'ausilio di quel nastro bruttilico che faccia da ponte sulla fessura che cos'è? il concetto fondamentale è se io ho un supporto rigido sul quale metto il mio strato impermeabilizzante in completa adesione se da zero lo strato di supporto si spacca io ho un delta di dilatazione che può arrivare a infinito perché io da zero mi si apre una piccola fessura e va a sollecitare tantissimo lo strato impermeabilizzante indipendentemente dalla sua elasticità se io invece vado a mettere un nastro anche solo di 5 cm come il flexi strip il nostro nastro bruttilico che fa ponte sulle fessure qui abbiamo una distribuzione di mettiamo un movimento di un millimetro che comunque potrebbe essere tanto direttamente su un supporto rigido bene un millimetro di movimento scaricato su una bandella di 5 cm capite che il movimento diventa assolutamente percentualmente irrilevante e conseguentemente facile da sopportare da parte dello strato impermeabilizzante ok perfetto allora hai accennato qualcosa al ritiro però ci chiedono di dare qualche informazione in più sul ritiro dopo l'applicazione questa domanda era arrivata quando ancora facevi vedere l'applicazione a rullo quindi non quella con hot spray non so se ci sono delle differenze tra le due applicazioni per questo tema quasi ci puoi dire qualcosa in più sicuramente allora il sistema hot spray come abbiamo detto a spruzzo a caldo non ha essenzialmente ritiro perché il residuo secco è del 100% quindi il materiale quando asciuga non ha ritiro l'unico ritiro che può avere è derivante dal suo raffreddamento coefficiente di idratazione termica e comunque è diciamo irrilevante in termini di movimenti del rivestimento il sistema invece manuale è soggetto a maggiore ritiro perché contenendo solvente di solito il contenuto solido è intorno al 60-70% e quindi comunque ha un 30% di materiale che si riduce in termini di volume o peso comunque i dati sono chiaramente indicati nella scritta tecnica nelle nostre schede tecniche trovate il dato di residuo secco contenuto solido adesso dipende dai casi ok perfetto allora vediamo portiamoci con qualche domanda sul Sicalastic 612 quindi il discorso di balconi e terrazzi allora ci chiedono se il 612 può essere usato per riparare una guaina ondulata sotto tegola danneggiata tendenzialmente sì perché no certo ok perfetto allora in caso di posa sull'astrico solare è possibile in un secondo momento rimuoverla preservando l'astrico solare? ma tendenzialmente no la rimozione di questi rivestimenti è sempre meccanica e abbastanza invasiva diciamo che l'applicazione, l'utilizzo del primer, la preparazione e supporto tutto è nell'ottica di favorire l'adesione ottimale di questo prodotto sul sottofondo l'altra faccia della medaglia è il fatto che una volta che ha molta adesione se poi lo vado a rimuovere è difficile rimuoverlo senza danneggiare un prodotto che si rimuove senza danneggiare il supporto è probabile che non avesse una grandissima adesione sul supporto che non è auspicabile perfetto senti prima hai parlato nel in relazione all'839 del fatto che debba essere protetto perché chiaramente diciamo va a essere soggetto all'azione dei raggi UV quindi va protetto questo succede anche ci chiedono per il sì no ti correggo il sicalastico 839 è poliodea pura e non è soggetto cioè è UV resistente quindi non necessita la finitura il prodotto che richiede la finitura è il sicalastico 851 che abbiamo visto nel filmato che è un prodotto di cui abbiamo visto solo nel filmato ma non ne abbiamo parlato ed è ibrido ok conseguentemente non essendo poliodea pura richiede la finitura la finitura comunque potrebbe essere scelta anche sulla poliodea pura se voglio un colore che rimanga quello che è perché comunque la poliodea anche se è pura è UV resistente non si degrada con il raggi UV ma cambia di colore se io metto un colore grigio tende a diventare un grigio verde se metto un bianco tende a diventare un giallino i colori più stabili ad esempio sono il rosso mattone che rimane tal quale o il verde muschio che rimane tale gli altri colori li metto ma se li metto devo accettare un leggero viraggio fermo restando che le caratteristiche non sono compromesse se invece la resa estetica del colore è vincolante allora posso scegliere di mettere anche una finitura anche se non serviva beh qualcosa in più lo vado a mettere ma con solo funzione di ottenere una colorazione definita ok e invece sulla resistenza ai raggi UV del Ciclastic 612? la resistenza ai raggi UV del Ciclastic 612? sì, è assolutamente sufficiente a garantire quello che è la durabilità che viene attestata per questo materiale di 10 anni quindi il prodotto è resistente ai raggi UV e applicato nei consumi come noi indicati cioè 2,8 kg a metro quadro totali raggiunge tranquillamente la durabilità dei 10 anni perfetto allora verifiche di cantiere nel caso del saggio per verifica spessore quindi quello invasivo diciamo di cui vi parlato non tanto quello ad occhio sul tema delle oppure necessità di un ripristino puntuale quindi entrambe le cose se sono possibili dei rappezzi ci chiedono? assolutamente sì è uno dei grossi vantaggi la guaina liquida si salda tra virgolette facilmente aderisce su se stessa ovviamente non deve essere sporca non deve essere inquinata ma semplicemente con una leggera abrasione con della carta abrasiva e eventualmente un idoneo primer che si chiama Sika Reactivation Primer per riattivare il vecchio strato tranquillamente si possono fare rappezzi o riparazioni ok intanto rispondevo a dei nostri professionisti che ci stanno facendo altre domande allora salve se la destinazione d'uso è una copertura piana calpe stabile come un terrazzo magari anche arredato con arredo outdoor come si conferisce maggiore resistenza meccanica al prodotto? allora il prodotto non è come abbiamo detto non è idoneo ad essere direttamente esposto all'abrasione l'abrasione e il perdonamento lo tollera senza problemi se orientato alla manutenzione quindi noi lo definiamo come ispezionabile quindi il concetto tante volte mi richiedono ma quante volte ci posso salire? salici quante volte vuoi certo che se scopro che ci sono i tavoli e seggiolini non è solo ispezionabile ma è completamente vivibile e non è un'applicazione ammessa mentre invece salirci per manutenzione quante volte ci salgo su un tetto da dire tanto una volta a settimana ecco quello non è assolutamente critico per rivestimento se invece voglio rendere il mio rivestimento direttamente vivibile ci posso incollare come abbiamo visto sopra le mattonelle delle nuove piastrelle sul 612 e a quel punto poi sulle piastrelle ci cammino senza problemi l'unico accorgimento è che la posa sotto piastrelle è ammessa solo se il ciclarsi 612 è applicato su un supporto incomprimibile non su guaina bituminosa questo è un accorgimento nel senso che il concetto è la guaina bituminosa sul tetto d'estate col caldo diventa molliccia se io poi lì sopra c'ho anche incollato delle piastrelle la cosa più facile è che quando le piastrelle puntano e si muovono il 612 venga tra virgolette staccato dalla guaina molliccia e non vada bene quindi l'applicazione sotto piastrella dei ciclarsi 612 è fattibile ma solo su supporti solidi non comprimibili perfetto ancora un paio di domande poi andiamo a chiudere allora ci chiedono il taglio delle latte riferito al 612 perché chiaramente avevi parlato di già di 200 litri se non sbaglio per il bicomponente da utilizzare nello spray quantità minima e quantità massima anche per fare quel sistema di verifica sul campo che avevi di cui hai parlato fondamentalmente beh allora il ciclarsi 612 è fornito in diverse taglie adesso non me lo ricordo nel dettaglio mi sembra che sia 21 chili e la... adesso non me lo ricordo esattamente beh facciamo... c'è questa informazione immagino che... ah perfetto lo stai recuperando ok intanto vedo di selezionare l'ultima domanda da 7 chili e da 21 chili 7,1 chili e 21,3 chili perfetto perfetto allora l'ultima domanda poi le altre mi scuso ma le giriamo all'azienda come si sostituiscono le guaine liquide quindi a fine vita diciamo a fine del periodo indicato come vado a sostituire le guaine liquide come dicevo come ho detto durante la presentazione dipende dipende con cosa voglio sostituirla nel senso che se la sostituisco con la guaina liquida vado a ripristinarla non devo fare nulla semplicemente faccio un isolavaggio la metto in sicurezza cioè sano le lesioni le irregolarità i buchi faccio delle pezze se ci sono dei tagli eccetera e poi dopo un semplice isolavaggio e l'applicazione di un idoneo primer che si chiama proprio reactivation primer per riattivare la vecchia guaina ci vado sopra direttamente se invece voglio proprio rimuoverla la rimozione è tassativamente meccanica perfetto allora è arrivato il momento di ringraziamenti come dico sempre quando arrivano in chat grazie, complimenti siete stati esaurienti eccetera vuol dire che è arrivata l'ora di andare a conclusione con il nostro appuntamento io come dico sempre nell'ultimi 20 minuti vado un po' a naso e vedo com'è la risposta del pubblico finché ci sono domande bene quando arrivano i ringraziamenti è ora di chiudere diciamola così Michele quindi io ti ringrazio ti ringrazio per questa tua disponibilità e mi aggiungo i complimenti che fanno i nostri professionisti che ci stanno seguendo rassicuro tutti perché rispetto a tante altre volte qua ci sono veramente state delle domande di caso per caso che non ho fatto ma come ho detto più volte le giriamo all'azienda di modo che possa darvi una risposta nei prossimi giorni chi ci chiede le slide anche queste vi verranno inviate via posta elettronica nell'arco di un paio d'ore le ricevete automaticamente poi come è successo per altri che magari si sono persi la mail eccetera se partecipa nei nostri prossimi webinar della Sica Web Academy me li chiedete sono in grado anche di girarveli in tempo reale il video anche oggi ci hanno richiesto molto dove ritrovare questi questi video queste registrazioni per poterle rivedere sul canale YouTube di Sica Italia a partire ormai dalla prossima settimana quindi il tempo tecnico di poterli caricare ma dalla prossima settimana vedo che siamo comunque in pari con quello che è stato caricato sul loro sulla loro account insomma sulla loro pagina su YouTube quindi dalla prossima settimana troverete tutto io vi invito all'appuntamento del 13 maggio quindi la prossima settimana mercoledì mattina sempre orario 11-12 anche se poi andiamo sempre ben oltre dedicato alle pavimentazioni nell'industria del food and beverage sistemi di ricostruzione e protezione questo è l'ultimo appuntamento a calendario con la Sica Italia Web Academy ma ultimo per fino ancora per qualche giorno nel senso che ora sul calendario trovate solo questo ma come vi ho anticipato all'inizio già dal mercoledì successivo ripartiremo con altre tematiche quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali di informazioni sul sito di Sica Italia vi terremo comunque aggiornati perché appunto la Sica Italia Web Academy proseguirà con altre tematiche quindi verrete aggiornati su tutto questo io ringrazio ancora Michele ti lascio salutare se vuoi grazie a tutti perfetto e niente ci rivedremo prossimamente immagino per parlare di impremiabilizzazioni perfetto grazie a tutti buon pranzo visto che l'ora è questa e buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti